Se a Pescara c'è fretta di chiudere i nodi tecnici relativi a direttore sportivo e allenatore, a Teramo invece tutto tace. Nel senso che le questioni di rimenti, peffa e stadio, sembrano essere preponderanti rispetto ad un organico, allo stato attuale solo ipotetico, con giocatori in scadenza tra 20 giorni, un allenatore che non c'è e un direttore sportivo che non si sa se sarà riconfermato o meno. Il tutto a pochi giorni dalle scadenze relative ai versamenti per la stagione in corso e per quella che verrà. Iachini sembra aver glissato l'argomento futuro calcistico perché in questo frangente, con una trattativa in ballo, non sembra volersi sbilanciare sul fatto che stagione 21-22 sarà lui il prossimo proprietario della squadra. Insomma, incassato l'ok per il piano economico-finanziario, la sensazione è che il massimo dirigente ora voglia accelerare per la chiusura con il gruppo romano e cedere, se non tutto, quasi il Teramo. Il problema, come detto nei giorni scorsi, sono le cifre dell'eventuale passaggio di quote societarie. Iachini pensa di poter mettere nel computo 1.800.000 euro di plusvalenze da realizzare con Santoro 500.000 euro, Piacentini 500.000 euro e Diachite 800.000 euro e presentare a chi intende comprare queste somme come valore potenziale da aggiungere a quello che già vale la società. Dalla parte opposta la risposta è stata chiara. Quello che vale il Teramo in questo momento non può essere valutato sulla base di cessioni ancora tutte da perfezionare. E poi, nel caso, a che cifre? Perché non è detto che se e quando questi giocatori andranno in altri lidi, a proposito, il Pisa nega contatti con Piacentini, non è detto che lo faranno a queste cifre che il diavolo ha in mente. La dimostrazione è stata in inverno quando la richiesta al Napoli per Diachite ha fatto saltare un interesse molto concreto della famiglia dell'Aurentes. Allora come fare? Dismettere prima? Oppure aspettare e vendere con rischio che magari i proventi delle cessioni ne incassi chi subentra? Il futuro è dietro l'angolo, il 28 si avvicina e il milione oltre di spese per Iachini è prossimo alla deadline. Poi ci sarà la questione fiduizione che, come asserito in più di una circostanza, fa parte delle pratiche per un'iscrizione mai messa in dubbio dal massimo dirigente. Che in realtà pare aspirare ad essere solo gestore dell'impianto lasciando a qualcun altro la questione calcio. Oppure no? Per sbrogliare questa matassa basta solo aspettare.